Si è formalmente aperta la campagna Un'altra difesa è possibile che punta alla raccolta di almeno 50.000 firme entro la fine di maggio per una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. De Luca è testimonianza per questa nuova campagna? Sì, sono stato invitato da Alex Zanotelli a venire a condividere questa loro iniziativa, la condivido in pieno, eccomi qua, poi nella città a cui sono più affezionato. Noi stiamo davvero proponendo questo con questa legge che non è semplicemente pacifismo, noi stiamo chiedendo questa legge di iniziativa popolare la creazione di un Dipartimento nel governo italiano per una difesa non armata e non violenta. L'obiettivo è quello di dare finalmente piena attuazione all'articolo 52 della Costituzione. In concreto la proposta di legge che i cittadini potranno sottoscrivere prevede l'istituzione di un Dipartimento che comprenda i Corpi Civili di Pace e l'Istituto di Ricerche sulla Pace e il Disarmo e che abbia forme di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, quello dei Vigili del Fuoco e col Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.